Il 17 d'agosto sarà la compagnia Art Dream a portare un grandissimo show, un grandissimo spettacolo, un musical incredibile perché in realtà è come una matrioscana e contiene più di uno all'Arena BCC di Fano. Sì esatto, il 17 agosto arriverà The Greatest Musical Show, è un musical che come ha anticipato il mio caro amico racchiude ben quattro spettacoli che sono Peter Pan, Pinocchio, Notre Dame e The Greatest Showman, quest'ultimo che ha riscosso un enorme successo a Hollywood. Quindi dobbiamo dire ai nostri amici che verranno di prepararsi a passare la notte qui oppure sarà abbastanza raccolto? Ovviamente ci sono le parti salienti dei vari musical e come hai detto tu giustamente portati in scena da un'ottima compagnia che è l'Art Dream dove ci saranno in scena ben 20 performers tra artisti e ballerini ed è uno spettacolo meraviglioso perché credetemi ha riscosso successo ovunque è andato.